3 2 1 go buongiorno ragazzi ragazzi oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video un video vlog raga perché è il nostro primo bagno al mare nel 2020 finalmente siamo riusciti oggi 27 giugno è sabato alle 10.17 ci stiamo dirigendo verso il mare e quindi via via siamo tutti molto happy e quindi giuli le tue sensazioni siamo bianchi che dovete amare solo esclusivamente per fare le mie facce bellissime ok ok io invece raga mi voglio abbronzare mi voglio fare il bagno al mare pensate che questo quando va al mare il tumore divisa al mare non è vero si è sempre caldo per certo vabbè e quindi ci vediamo dopo e quando ci vediamo allora raga siamo siamo arrivati si siamo arrivati ora andiamo allora siamo arrivati raga praticamente stiamo andando a mare e siamo arrivati finalmente è pronta è pronta non ho capito primo tuffo primo tuffo vediamo un po' no ma padre ma che c'è credo il me ne torno sull'ettino ma no no io non ce la faccio ma voglio anche se non ci sono andato Siamo a mare, ci siamo fatto un bel bagno, abbiamo anche mangiato il disepeddo. Poi, noi stiamo aspettando da un'oretta di farci il bagno, quindi alle 1 e 20, andiamo a farci il bagno, io sono contenta. Io ho sfregato questa pietra vicino ad un'altra pietra, guardate qui è venuto questa cosa qua, quindi sono curiosa di me raga. E quindi soggiuniamo dopo quando andiamo a fare il secondo bagno della giornata. Ciao raga, allora praticamente sono tipo le 5 e 20, 5 e un quarto. Allora, io sto decidendo di farmi il bagno tenore, però direi che no forse, perché il signore mi si è asciugato e un po' non c'è voglia ora. E questo è un po' stanca, e quindi nada, questo è tutto, e basta. Ora, non so, veramente il mio interno tutti, non mi stanno di nonce per le lentiggini, perché è periodo di lentiggini. E nada, nada, raga è bello l'acqua, guardate. Io avevo anche la maschera, però non c'è voglia, quindi lasciamo vedere e nada, non mi bacio, ma comunque penso che questa volta la doccia non ce la facciamo fare, perché non rimaniamo stati rafforni, cioè non cerchiamo di rafforni, ma ce ne torniamo direttamente a casa. Quindi la doccia non ce la faccio a casa, perché semmai io se il costume è felice, però, raga, mi stanno venendo voglia, perché guardate, ma non c'è più difficile, la bella. Ero tipo in fondo, sì, stai parlando anch'io, dove ho lasciato, raga. Non porto il cellulare, perché il cellulare è nuovo, e sa che è subacueo, però ho paura che si diventa, quindi magari mi bagno solo i piedi con voi. Ok, raga, allora, alla fine il bagno l'ho fatto, perché semmo la testa dura, però lascio il verde. E nada, ora ci facciamo delle foto. Ok, raga, allora, siamo tornati al mare. No, siamo tornati, stiamo ancora al mare, però, Giulia, si perdono le ghiacchie, le vuole portarli. Allora, ci siamo rivestite più o meno, appunto, non facciamo la doccia qui, perché sì, perché stasera non ci fermiamo nemmeno a forme, quindi insomma. non ce la facciamo qui, ma ce la facciamo direttamente a casa. C'è questo? Sì. Quello di Giulia, pure a me. Come ti spiace, non stava? Dicevo. Allora, praticamente, papà ora si sta prendendo il gelato. Cosa, mamma? Non so, qua po' che vedi, magari. Non c'è il mio gelato. Eh, te l'ho prendendo un gelato nuovo e ora me lo prendo anch'io. Ecco, ora vado. Aspettate, raga. E ecco qua, ve lo facciamo vedere da Giulia, perché dopo lo apro io. E mi prendo il naso. Raga, è stata una bellissima... Che c'è? Quanto? Vabbè, ora viene... Ti rito. Ora viene... Allora, raga, se mi fanno parlare in questa mia famiglia. Allora, praticamente, è stata una bellissima giornata, proprio molto molto bella. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto tuffi dappertutto. Io ora sono un po' troppo rossa sulle gambe. Però, vabbè, poi il resoconto lo vedremo quando tornerò a casa. Quindi, quindi sì. Ora ci vorranno un paio d'ore, un'ora e mezza, dipende dal traffico. Per tornare a casa. È stata una bellissima giornata. Ora io mi mando il mio ghiacciolo e il mio gelato. E se... Non so se continueremo il vlog pure a casa, però... Alla fine, la giornata l'abbiamo blocata, insomma. Quindi, stasera alla fine ci vedremo una doccia che proprio non blocchiamo. Quindi, tranquimelo. Non ce l'ho trovata e comprata a questo punto. No, infatti. Vabbè, io vi mando un bacio. Giulia vi mando un bacio. A prossimo. Video, ciao. Oppure dopo, no. Un bacio. Al prossimo video. Ciao. Ciao.